Musica Consorzio di bonifica, breve elezione del nuovo Presidente in attesa della nuova legge con l'aggregazione degli enti consortili Blitz antidroga nell'agro, inundici nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Carcere di Sala Consilina, l'avvocato Angelo Paladino scrive ai parlamentari del Movimento 5 Stelle se la politica vuole riaprire il carcere non c'è burocrate che tenga Silla di Sassano, inaugurata ieri la mossa su semi e frutti antichi organizzati dalla parrocchia della ruralità di Silla Sport, calcio, vigilia di campionato per il Girone D di promozione Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News Apriamo parlando del Consorzio di bonifica Dopo le dimissioni del Presidente Giuseppe Fornino si attende ora la nomina del nuovo Presidente che peraltro potrebbe anche dover fare i conti con una nuova legge regionale per la disciplina dei Consorzi di bonifica Vediamo Con la convalida delle nomine di regione e provincia al Consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro si può procedere all'elezione del Presidente della Deputazione Amministrativa che guiderà l'ente fino al 2021 salvo cambiamenti che pare potrebbero sopravvenire Dopo la nomina dei tre consiglieri nominati dalla provincia Gianfranco Cavallone, Francesco Bellomo e Vincenzo Chiappardo su quest'ultimo nome la lista Fornino ha preferito astenersi è arrivata la nomina della regione con la scelta ricaduta su Paolo Gallo Immediatamente dopo la convalida Giuseppe Fornino nominato nel dicembre 2016 Presidente al fine di guidare l'ente fino alla composizione del nuovo direttivo nel rispetto di quanto stabilito ha presentato le sue dimissioni con una lunga e corata lettera Nella lettera però Fornino parla anche dei possibili cambiamenti che potrebbero subire i consorzi di bonifica Da qui il dubbio sulla durata dell'incarico del nuovo Presidente che sarà eletto All'orizzonte si profila infatti l'ipotesi di accorpamento degli enti consortili La proposta di legge è stata già approvata in giunta regionale e trasferita alle commissioni che entro il 31 dicembre dovrebbero portarle in consiglio per l'approvazione Se l'iter dovesse concludersi con successo la gestione dei consorzi di bonifica subirà un importante cambiamento Innanzitutto non si fa più riferimento a nomine esterne riducendo il numero dei componenti il CDA composto esclusivamente dagli eletti Un vantaggio per il Presidente di Missionario Giuseppe Fornino che nella sua lettera aveva evidenziato come una tale evenienza si potrà parlare di gestione più vicina ai consorziati La proposta di legge però parla anche di fusione dei consorzi con il titolo sesto riordino territoriale e risanamento finanziario dei consorzi di bonifica Un capitolo della legge che come evidenziato anche dal dottor Fornino nella lettera potrebbe non favorire il consorzio locale La fusione viene decisa dal Consiglio regionale se la giunta regionale ne ravvisi l'esigenza come riportato nell'articolo 2 La preoccupazione nasce dalla condizione economica di diversi consorzi di bonifica e dall'ampliamento spropositato della competenza che potrà allontanare l'ente dal consorziato Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro pare possa vantare di una gestione attenta ed oculata con bilancio inattivo mentre esistono consorzi che necessitano invece di risanamento come specificato nel titolo sesto Qualora si decida per la fusione con altro consorzio si dovrebbe ricorrere anche a nuove elezioni Naturalmente si tratta solo di ipotesi La proposta di legge, seppur l'iter è già in stato avanzato, non è comunque ancora resa effettiva Siamo in un certo senso in tema ma ci spostiamo perché andiamo a Capaccio Pestum dove i residenti ed agricoltori di Ponte Barizzo, Gromola e Foce Sele hanno chiesto al Comune e al Consorzio di riprendere i lavori nell'alveo del fiume Sele per ridurre il rischio idraulico Vediamo il servizio I motivi di questa assemblea è perché tutti gli alluvionati si sono allertati per tutti gli episodi che si stanno verificando in campo nazionale e fino a oggi nulla è stato fatto, nessuna istituzione si è mosso ci sono delle criticità, dei punti di criticità all'interno del fiume Sele segnalate più volte e fino allo stato attuale nessun provvedimento è stato adottato è quella di sensibilizzare il primo cittadino del Comune di Capaccio è il commissario del Consorzio di Bonifica affinché queste problematiche vengono risolte al più presto possibile in attesa della definizione del progetto generale che pende presso il Comune di Capaccio Questa sospensione è un paradosso alla luce di quello che sta succedendo in Italia e credo che noi dobbiamo immediatamente ripristinare gli interventi di sommorgenza all'interno del fiume Sele di tutto questo mi avverrò dei poteri che mi conferisce la legge in materia di massima autorità di protezione civile e interverremo immediatamente perché mai più si debba subire gli eventi del 2013 e del 2015 che hanno messo non solo a rischio la pubblica e privata incolumità ma hanno distrutto anni di culture che effettivamente hanno messo in ginocchio l'economia o parte dell'economia di famiglie e di aziende di questo territorio Per fine mese dovrebbe essere sul tavolo della regione Campania il progetto esecutivo quindi pronto per poter avere il finanziamento e procedere all'iniezione della gara d'appalto quindi un grande lavoro che si sta facendo come Comune con il Consorzio di Bonifica l'autorità di Bacino, di Caserta e la regione Campania quindi un grande lavoro Questi interventi sono interventi dettati e mirati da quelli che sono stati i verbali di sommorgenza concordati con i rappresentanti delle regioni civili di Salerno pertanto se sono stati ultimati i lavori è perché è ultimato in quella particolare tratta del fiume quella determinata urgenza quindi penso che assolutamente non possiamo dire che arbitrariamente sono stati i loro specie dei lavori ma sono ultimate quelle opere che erano state dettate dall'urgenza di quel verbale concordato tra i tecnici del Consorzio dell'epoca e i tecnici delle regioni civili che svolgono da alta sorveglianza su quel tratto di fiume Passiamo ora alla cronaca 11 ordinanze di custodia cautelare personali emesse dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di altrettanti indagati sono state eseguite questa mattina nel corso di un blitz antidroga dai carabinieri svoltosi nell'agro i destinatari della misura sono ritenuti responsabili a vario titolo scusate di concorso per ed in detenzione spaccio di sostanza stupefacente rapina a mano armata lesioni ed evasioni degli arresti domiciliari sono arrivati a rapinare un supermercato pur di ripianare le perdite dovute ai sequestri di droga subiti nei mesi scorsi una ferocia incredibile e che ha portato uno degli arrestati ad affermare meglio fare le rapine che spacciare droga il bottino di quell'irruzione al sole 365 di Nocera Superiore avvenuto il 29 marzo scorso fruttò infatti 15.000 euro è questo uno degli episodi legati all'operazione antidroga messa a segno dalla compagnia carabinieri di mercato San Severino coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore in particolare dal sostituto procuratore Roberto Lenza 13 gli indagati di cui 6 in carcere 3 ai domiciliari 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 2 a piede libero l'inchiesta ha consentito di individuare 3 distinti gruppi criminali e un cane sciolto due gruppi operavano a Salerno uno in centro e l'altro a Fratte 5 le persone coinvolte le carte sono state passate da Nocera Inferiore alla Procura Salernitana un altro gruppo che si è macchiato della rapina al supermercato episodio ricostruito perché all'epoca gli indagati erano già intercettati vede coinvolte 6 persone tra cui una donna impegnati tutti sul territorio di Castel San Giorgio Rocca Piemonte e Nocera Superiore in manette anche un gambiano giovane richiedente asilo che si destreggiava nello spaccio tra le strade di Castel San Giorgio risiedeva infatti al centro per richiedenti di Torello e il lungomare di Salerno dove già fu arrestato dagli uomini della squadra mobile un'attività di spaccio che non disdegnava alcun tipo di stupefacente sequestrati eroina, crack, cocaina, hashish e marijuana l'indagine ha messo in evidenza una grossa offerta di droga tant'è che gli acquirenti hanno indicato senza problemi nomi e volti degli spacciatori Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato a Castelnuovo Cilento un impianto di produzione e stoccaggio di calcestruzzo e l'area attigua adibita a discarica A Castelnuovo Cilento la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato un'area di 10.000 metri quadrati e un impianto di produzione e stoccaggio di calcestruzzo di 11.000 metri quadrati per un valore complessivo di oltre 750.000 euro Le indagini che hanno portato al sequestro sono state condotte dalle fiamme gialle di Vallo della Lucania che hanno iniziato ad investigare dopo aver notato un anomalo innalzamento dell'area che poi si è scoperto realizzata per lo sversamento di rifiuti la stratificazione aveva portato il terreno allo stesso livello del manto stradale diversamente dalle zone agricole adiacenti È venuto fuori che due imprenditori di ascea operanti nel settore della produzione di calcestruzzo avevano realizzato interventi edili in zone sottoposte a vincolo passeggistico e ambientale senza i necessari permessi avevano inoltre scaricato abusivamente rifiuti tra cui materiali di risulta e pietre da scavo su suoli privati e presso siti non autorizzati Gli accertamenti effettuati sul posto hanno poi portato i militari a scoprire un complesso produttivo di calcestruzzo per la lavorazione, la produzione e lo stoccaggio dei rifiuti realizzato abusivamente peraltro in una zona sismica e per di più sottoposta a vincoli paesaggistici e naturali Numerose le violazioni riscontrate in materia ambientale ed edilizia insieme con il sequestro preventivo dell'intero impianto produttivo e dell'area attiva di vita a discarica è scattata anche la denuncia dei due imprenditori cilentani Ancora cronaca è stato smantellato tra Casola di Napoli lettere Torre Annunziata e San Rufo un gruppo che gestiva droga e armi la notte scorsa i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di sette indagati ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione spaccio di sostanza stupefacente nonché detenzione porto abusivo di armi tra l'ottobre 2017 e il marzo 2018 i carabinieri hanno indagato sui canali di approvvigionamento per piazze di spaccio nelle province di Napoli e Salerno dove giungevano rifornimenti di marijuana e cocaina in due sono finiti in carcere in tre ai domiciliari mentre a due è stato notificato il divieto di dimora nella provincia di Napoli e andiamo avanti nell'ambito delle operazioni contro la pesca illegale la Guardia Costiera di Salerno ha sequestrato oltre 120 kg di tonno rosso ma vediamo i particolari nel prossimo servizio incessante e attenta l'attività condotta dalla Guardia Costiera di Salerno che attraverso il pattugliamento della costa punta al controllo e alla vigilanza della filiera della pesca per tutelare la salute pubblica e le risorse ittiche di specie protette in quest'ottica che nel pomeriggio di mercoledì i militari hanno individuato nelle acque antistanti il comune di Maiori oltre 80 esemplari di tonno rosso immediatamente sottoposti a sequestro la cattura della specie di tonno rosso secondo quanto riporta la normativa vigente in materia è severamente vietata in questo periodo inoltre essendo di lunghezza massima di 40 centimetri gli esemplari sono una specie animale allo stato giovanile protetta la legge inoltre impone precise e restrittive norme per la cattura del tonno rosso i cui quantitativi si sono considerabilmente ridotti portando l'esemplare a rischio estinzioni infatti è vettata la pesca inferiore a 30 kg e inferiore a 115 cm i controlli continueranno con mezzi navali e terrestri al fine di tutelare le risorse istiche di specie protette oggetto di pesca indiscriminate per garantire la salvaguardia dei consumatori cambiamo argomento questione carcere ancora al centro del dibattito con il presidente dell'unione giuristi cattolici italiani sezione di sala consiglina l'avvocato angelo paladino che scrive una lunga lettera ai parlamentari del movimento 5 stelle chiedendo di incontrare il ministro della giustizia buona fede l'avvocato angelo paladino non si arrende alla chiusura del carcere si rivolge direttamente ai parlamentari eletti e che ricoprono anche ruoli all'interno del governo in una lunga missiva inviata al senatore francesco castello l'onorevole angelo tofalo sottosegretario al ministero della difesa e al senatore andrea cioffi sottosegretario al ministero dello sviluppo economico nella sua veste di presidente dell'unione giuristi cattolici italiani sezione di sala consiglina sottolinea ancora una volta l'importanza del carcere a copertura di un circondario che al momento risulta scoperto nella lettera paladino attacca i funzionari ministeriali per aver liquidato la questione ritenendo non utile riaprire il carcere in quanto si vuole invece puntare sulla realizzazione di un fantomatico definito così da paladino carcere di 400 posti da allocarsi si legge in una caserma della quale non è dato sapere l'ubicazione e né la consistenza Angelo Paladino rivolgendosi al senatore Castiello e rispondendo alle sue dichiarazioni secondo cui sono i burocrati ministeriali ad impedire la riapertura ricorda e condivide il pensiero secondo cui in Italia la politica espressione della volontà popolare deve prevalere su ogni altra decisione e i burocrati devono dare esecuzione alle strategie dettate dagli eletti nella missiva inviata ai parlamentari l'avvocato Paladino elenca le numerose ragioni per il quale bisogna sostenere la riapertura del carcere il sovraffollamento dei carceri come Salerno e Napoli e i richiami dell'Unione Europea in tal senso come ad esempio anche la necessità di riaffermare il principio della prossimità delle strutture giudiziarie in conclusione della missiva Angelo Paladino riporta l'esempio del 1989 quando il sottosegretario Franco Castiglione del Partito Socialista Italiano aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di soppressione del carcere così come nel 2004 il ministro leghista Roberto Castelli a cui si era rivolta la politica locale aveva deciso di riaprire il carcere di Sala Consilina dopo che ancora una volta i burocrati ne avevano invece stabilito la chiusura la storia insegna conclude Angelo Paladino che se la politica vuole non c'è burocrate che tenga chiedendo di incontrare il ministro Bonafede prima che sia troppo tardi insieme al sindaco e al presidente dell'ordine degli avvocati e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Sassano dove ieri sera presso il centro polifunzionale di Silla di Sassano è stata inaugurata la prima mostra vivente di semi frutti antichi e frutti dimenticati resta in esposizione per quattro giorni presso il centro polifunzionale la mostra è stata voluta e organizzata dalla parrocchia della ruralità di Silla di Sassano insieme con l'ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle antiche coltivazioni l'azienda vivaistica la taverna del Duca il parco nazionale cilento Vallo di Diano e Alburni e il comune di Sassano ieri sera all'apertura erano presenti il parroco di Silla di Sassano Don Bernardino Abadessa che ha introdotto l'iniziativa con una benedizione ebraica recitata mangiando mela e miele c'erano poi anche l'assessore al comune di Sassano Mario Trotta e il professor Domenico Calicchio e il professor Nicola di Novella alla presentazione e ai saluti introduttivi ha fatto poi seguito un dibattito legato al tema perché salvare la biodiversità del pianeta l'iniziativa è aperta al territorio a scuole e politica compresa vediamo è una delle tappe come tu dicevi di questo cammino che la parrocchia di Silla ha inteso intraprendere la ruralità la ruralità come valore come modo di vivere come modo di pensare come modo di agire perché come dice il professore Persico la cultura del bastevole dobbiamo sposare e coniugare nella nostra esistenza in questo mondo dove tutto divoriamo con gli occhi con i desideri questo possedere questo consumare continuamente ci ha portato ad allontanarci da quelli che sono i valori veri della vita dell'esistenza il rispetto per ciò che è stato creato da Dio a noi donato perché noi fossimo i custodi e potessimo poi donarlo ai nostri figli non sprecarlo sciuparlo consumarlo divorarlo vogliamo essere un tramite tra ciò che era la natura dei luoghi a costruire tutti questi frutti e noi vogliamo riportarli di nuovo alla loro importanza facendoli conoscere prima i bambini e poi anche facendoli ricordare tra gli adulti è tanta biodiversità che è stata distrutta in parte è stata disconosciuta a tal punto che mentre noi voi vedete qua in illustrazione 122 varietà di mele in questo periodo dove ci sono solo quelle che venivano conservate per l'inverno quindi una grande biodiversità e invece sulle nostre tavole arrivano le mele del Trentino mille chilometri percorrono queste mele per arrivare qui da noi e tutta questa ricchezza che teniamo noi ecco allora è lo spunto necessario per poter di nuovo riconoscere queste ricchezze come amministrazione anche come parco che ha sponsorizzato questa questa mostra del professore di Novello ovviamente non avevamo dubbi sulla valenza oltre che scientifica ma soprattutto culturale e ambientale di questa mostra sappiamo bene la passione lo studio e le ricerche che continuamente fa il professore di Novella su tutto il territorio del parco e non solo su quello di Sassano ovviamente già ho sbirciato visto che è veramente una mostra bellissima anche a vedersi perché ovviamente raccoglie tutta una serie di varietà di semi di frutti di antiche coltivazioni che sono non solo del territorio di Sassano ma di tutto il Vallo di Diano e credo anche Cilento mi sembra di aver visto qualcosa anche del Cilento appunto perché rappresenta anche una mostra e un lavoro offerto anche per conto del parco nazionale Cilento e Vallo di Diano abbiamo cominciato l'anno scorso per la prima volta a fare le prime prove così diciamo sulla trasformazione della frutta e alcune varietà si sono diciamo dimostrate propense per la trasformazione l'utilizzo come marmellate confetture e anche alcune tipologie di ortaggi stiamo cominciando a fare alcune prove per noi è una soddisfazione poi alla fine poter mostrare quello che facciamo sia per quanto riguarda la conservazione che la raccolta fa piacere Andiamo a Salerno con Lucid Artista torna ad avere la sua centralità alla città nella Movida della provincia di Salerno un primato perso però negli anni a favore di Nocera e soprattutto Cava dei Tirreni che progressivamente sono diventati i centri dove i giovani trascorrono le loro serate l'accensione di Lucid Artista sono l'occasione anche per ribadire la necessità di pensare ad un rilancio del settore e per farlo è necessario ricostruire insieme a tutti gli attori coinvolti che cosa invece cosa che invece non accade vediamo da domani grazie all'evento Lucid Artista Salerno ritornerà ad essere il centro capofila della Movida e del divertimento notturno in provincia un primato che il comune capologo ha progressivamente smarrito negli ultimi anni e questo per un prepotente ritorno sulla scena del by night di Cava dei Tirreni e la prepotente ascesa di Nocera Inferiore due poli straordinariamente attrattivi soprattutto per la zona nord della provincia che è poi quella che storicamente si muove con maggiore frequenza grazie all'evento Lucid Artista riprenderanno così respiro i locali i tanti locali del centro della città di Salerno che stanno vivendo nell'ultimo periodo una considerevole contrazione non che le luci possano attrarre imponenti masse di giovani che oggi preferiscono Cava e Nocera Inferiore a Salerno ma la presenza di visitatori anche non giovanissimi in qualche modo aiuterà l'economia di un settore che a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio ha tenuto a galla il sistema ovvio che come ogni fenomeno raggiunto l'apice cominci la parabola discendente tanto più che gli altri non stanno di certo a guardare ed è proprio questa fase di transizione decisiva per le sorti del settore trovare la forza l'energia per una movida 4.0 diversa da quella che storicamente è stata raccontata sarà fondamentale per le sorti future del settore ma perché si possa centrare l'ambizioso obiettivo è necessario che Salerno riesca a fare sistema tra tutte le parti in causa il fenomeno della movida per come è stato vissuto negli anni passati è ormai in via di estinziose imprescindibile allora risulterà una rivisitazione del fenomeno un nuovo modello l'evento lucida artista con i suoi tanti pro e altri tanti contro potrebbe allora rappresentare un'occasione una ghiotta opportunità per il rilancio del settore ma perché ciò accada sarebbe necessario pensarlo e costruirlo insieme con tutti gli attori che ne fanno parte cosa che invece non accade o quantomeno accade in maniera assai sporadica così facendo lucida artista resterà solo un evento fine a se stesso bello quanto si vuole ma sporadico appunto occasionale non certamente sistemico e ora il teatro andiamo a Sant'Arsenio domani sera secondo appuntamento del festival teatrale Sant'Arsenese a salire sul palco del teatro amabile la compagnia a Zezza di Sant'Agnello in provincia di Napoli con lo spettacolo O Miracolo e San Pancrazio vediamo domani sera la seconda serata della settima edizione del festival teatrale Sant'Arsenese propone la commedia O Miracolo e San Pancrazio che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale a Zezza di Sant'Agnello in provincia di Napoli lo spettacolo avrà inizio alle ore 18 la location è sempre quella consueta del teatro amabile di Sant'Arsenio O Miracolo e San Pancrazio è una commedia brillante e divertente assicurano gli organizzatori della rassegna divisa in due atti si basa su una sceneggiatura semplice dai ritmi serrati doppi sensi e situazioni paradossali daranno vita ad un dissacrante spettacolo comico con uno sguardo riflessivo su tematiche serie come il maltrattamento femminile e la condizione della castità clericale l'azione si svolge nel dopoguerra all'interno della tranquilla sacrestia di Don Peppino ben presto la quiete sarà interrotta da vari accadimenti l'arrivo di Bertuccio il nipote seminarista di Don Peppino che avrà una relazione con Annina l'improvviso amore che scoppierà tra Camillo e Sacristano e Concetta la Perpetua il ritorno dalla guerra in Russia di Pasqualino e sfidanzato di Concetta dopo il successo della prima serata che ha visto esibirsi la compagnia e la proposta di Altavilla Silentina con lo spettacolo Anfitrione domani sera dunque il secondo appuntamento della rassegna Festival Teatrale Sant'Arsenese che quest'anno per la settima edizione è dedicata al maestro Sebastiano D'Amato a 150 anni dalla sua nascita e ora passiamo allo sport domani in campo per la decima giornata del campionato di promozione il girone D unico posticipo Acquavella Giffonese domani in campo il big match Giffone 6 Casali scusate e Alfa Terna vediamo Tutte o quasi le gare della decima giornata del campionato di promozione girone D si disputeranno domani pomeriggio un sabato con fari puntati sulla sfida del Gian Natasio dove il Giffone 6 Casali riceve l'Alfa Terna per una gara che mette di fronte due delle tre capoliste del girone spera in un pari Langri che in casa contro il Campagna dovrebbe avere vita facile conquistare l'intera posta in palio in agguato c'è anche la Calpazio che a meno uno dalla vetta sarà impegnata nel derby contro la Poseidon una gara sulla carta favorevole a Santucci e Soci ma il derby è una gara a sé cerca riscatto il Buccino Volcei la formazione di mister Costantino dopo la sconfitta di sette giorni fa giocherà in trasferta sul campo della Rocchese alle prese con una classifica deficitaria e tre squalificati importanti gioca in casa lo Sporting Ponte Cagnano che in attesa della pronuncia circa il ricorso contro la gara persa sul campo della Giffonese riceve la temeraria San Mango ha il sapore di un derby la sfida tra centro storico Salerno e Piccola mentre gioca in casa il Salernum che ospita la San Maurese a chiudere il programma e il posticipo di domenica pomeriggio tra Acquavella e Giffonese e con lo sport chiudiamo il nostro TG vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti